Una, 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 una bella di Ficolona, ma è più quella la mia, è quella della Sì. E anche nel quartiere 4 l'associazione pattinaggio artistico Il Boschetto festeggia la Rificolona. Compito in grado quello di scegliere a Mirko Dolmentoni, presidente qui del quartiere, quella più bella questa sera? Sì, compito in grado perché sono davvero belle, sono molto belle quelle autocostruite, sono tante. Quindi c'è fantasia, creatività, passione che ci hanno messo le bambine e i bambini, anche i genitori che le hanno aiutate. Il Boschetto è una Rificolona davvero sempre molto partecipata e anche molto davvero creativa. E rispetta quindi al massimo la tradizione, anzi la rinnova, la porta nel futuro. Ma che nasce dalla festa religiosa. Domani si ricorda la natività della Beata Vergine Maria. E i nostri contadini, i nostri fiorentini, sono sempre stati sensibili. Abbiamo avuto anche la benedizione del parroco, infatti qui al Boschetto, come l'abbiamo avuta all'isolotto. Però insomma la cosa importante è che sia una festa di comunità davvero. Allora siamo pronti per scegliere la più bella Rificolona di quest'anno? Sì, c'è una giuria, quindi io devo solo limitarmi in realtà alla premiazione, quindi il mio compito in realtà non è troppo difficile, però lo faccio davvero molto con passione e felicità. Vince la spira delle Rificolone più belle, il principe Renotti. Secondo classificato è il pesce palla. Presidente, insomma, se l'è cavata bene, diciamo. Momenti come questi sono sempre più importanti nel quartiere. Sì, davvero, sono felice, felice perché questi momenti sono momenti in cui la nostra comunità si rinsalda, i bambini partecipano a una cosa che non è la solita, che sta negli schermi dei telefonini, ma che li fa stare insieme bene, crescendo bene insieme, questa è la parola più importante. Sì, davvero, sono felice, 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 felice.